Ehi, ehi, l'ho trovato! Gerry l'ho trovato! E' qui l'ho trovato, guarda! Guarda, Gerry! Guarda! E' qui! Non vedi che è una lapide, c'è sepolto qualcuno. Leggi un po' che c'è scritto. Qui giace Jonathan Foster. Venuto alla ricerca del tesoro con Brian Colpepper e' trapassato il 16 marzo 1950. Hai visto che succede a cercare i tesori che non esistono? Sì, ma questo dimostra che ci sono persone che credono che il tesoro esista. E il fatto che sia morto Foster non vuol dire che Colpepper non l'abbia trovato. Brian Colpepper, 17 marzo 1950. E' morto il giorno dopo, questo.